Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 tratto chiuso per lavori tra Pian del Voglio e Rioveggio verso nord fino alle 6 di domani 15 settembre. La mobilità sempre in A1 rallentamenti verso nord per traffico tra Baldarno e Cisareggello per veicolo in avaria tra Aglio e Badia. Ci spostiamo in Fipili per veicolo fermo o in avaria ci sono tre chilometri di coda tra Ginestra e La Strasigna per chi viaggia verso Firenze. Per la cantieristica segnaliamo sul raccordo Siena-Firenze per lavori tra i chilometri 24,8 e 25,8, scambio di carreggiata con chiusura dello svincolo di Poggi Bonsi Nord in ingresso e in uscita per chi viaggia verso Firenze da quest'oggi fino al 25 settembre. Moversi in Toscana Infio servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!